La lotta che bisogna fare è che non ci siano lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, lavoratori fortunati che vengono regolarmente pagati, anzi pagati anche se con ritardo ma alla fine pagati e lavoratori invece che vivono ancora nel dubbio, nell'incertezza o nell'attuale certezza purtroppo di non essere stati pagati. E quanto è capitato sta capitando ai lavoratori della quadrato, meglio della ex quadrato, ora transitati nella GS, i quali appunto rispetto alle vecchie spettanze maturate all'epoca della permanenza nella quadrato non hanno ancora a loro dire ricevuto nulla. Ricordiamo che la ditta quadrato per quanto riguarda le loro prestazioni come la GS opera appunto nel settore delle pulizie industriali di ILVA. Quindi l'appello è che questi fondi che Arcelor Bital ha stanziato per le ditte dell'appalto, ovviamente questa ripartizione riguardi anche i lavoratori della ex quadrato. Siamo con un rappresentante, io mi chiamo Larice Gino, io ho cercato di esporre più o meno la situazione, vada lei nello specifico che lei insieme ai suoi numerosi colleghi qui presenti sotto palazzo di città hanno giustamente da fare le loro sacrosante rivendicazioni. Sì, noi siamo degli ex dipendenti della quadrato, il nostro titolare è il presidente di Confindustria, dove ci ha bloccato dieci giorni per essere pagati, dove noi abbiamo perso questi dieci giorni. C'è stato un ritardo, ah ecco, un ritardo di dieci giorni. C'è stato il blocco in portineria perché avanzavano dei soldi, sono stati risarciti però a noi a oggi non abbiamo avuto neanche un euro, cioè noi avanziamo a seni familiari, tredicesima, quattordicesima, a ferie e vorremmo sapere, le altre ditte, sono state pagate tutte, i suoi dipendenti hanno avuto, ora voi che non siete più quadrato ma GS, quindi ex quadrato, al momento non avete ricevuto nulla. Niente, niente. E in più ci ha detto, quali sono state le risposte? 500 euro di acconto su 10.000 euro che avanzo personalmente, a parte tutti gli altri, o vi prendete quello o dovete aspettare. E noi a oggi vorremmo sapere, ma questi soldi, io per dire io ho bambini, ho famiglia, ho da dare anche delle cose a casa, cioè non vorremmo sapere a che punto dobbiamo arrivare, qua non lo so, non ci fanno sapere niente, se era possibile essere pagati dal signor Marinaro, tutto come titolare dell'azienda, della quadrato, in quanto voi dite giustamente, noi abbiamo lavorato per conto della quadrato. Anche perché è stato risarcito, lui disse in un'intervista che i primi a essere pagati devono essere gli operai, cosa che non ha fatto. Bene, io mi rivolgo ad Antonio Marinaro, al geometra Marinaro, sia come imprenditore e a maggior ragione come presidente di Confindustria, per far sì che vengano date risposte a questi cittadini, a questi lavoratori. Stiamo parlando di persone che lavorano onestamente, che devono portare il pane a casa, perché hanno una famiglia da sostenere, ed è davvero triste e umiliante vedersi trattati come la sorellina povera rispetto ad altre aziende. Siamo ancora qua, noi dovevamo avere tutto il 30 settembre, cosa che ci manda da giorni in giorni, mesi e non sappiamo... Bene, io, ripeto, confido nella sensibilità e nella disponibilità di Marinaro, noi non molliamo la presa perché vogliamo che, ripeto, non ci siano lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Aspettiamo che il presidente Marinaro liquidi, ovviamente, le legittime e sacrosante spettanze. Gli asseni familiari sono nostri, tredicesima e quattordicesima, li abbiamo versati noi. Cioè, lui non è che deve aspettare dei soldi, lui già ce li ha questi soldi. Io ho famiglia, bambini, noi da stamattina alle 5 siamo ancora qua per lottare per le nostre cose. La voce di Polifemo, che è da sempre vicina, è sempre l'amplificatore di situazioni di sofferenza, è vicina agli ex lavoratori della ditta Quadrato.